Aspettavamo questa vittoria in trasferta da tanto tempo e oggi è arrivata, siamo felici, quindi sono felicesimo del gol, sono sincero, l'ammetto, perché segno quasi mai, quindi quando lo faccio è l'emozione unica. Poi con questa gente, con questi tifosi che sono andati così tanti da parte dell'Italia e festeggiare con loro. Noi cerchiamo di lavorare come sempre, insomma, meritiamo vittorie in altre trasferte, abbiamo detto tu Solerno, forse meritiamo una cosa in più, Mercedes sicuramente meritiamo la vittoria. Oggi abbiamo sofferto un po', ma è normale, in trasferta, con squadre forti, quindi bisogna soffrire sempre e abbiamo fatto la squadra. È ancora presto di parlare di voli, di cose strane, quindi domenica abbiamo il derby, che è una partita fondamentale per noi e per la nostra gente, quindi credo che sia domenica una partita fondamentale. La forza di questa squadra non è il singolo, ma è il gruppo, perché chiunque scende in campo fa bene, quindi questo vuol dire che la forza è nel gruppo, non è nel singolo. Io da sempre al 100%, poi è normale che quando è un po' più di continuità sia più facile anche fare meglio, però come ho detto io, i compagni mi danno una grossa mano perché giochiamo bene, mi piace giocare in questa squadra perché giochiamo al calcio, quindi piano piano mi sto adagiando molto bene con questo gruppo. In un altro contesto devo aver risposto mediano, qua ti dico che è uguale, perché comunque con le idee che ha il mister, giocare mezz'ora al giocare mediano, come ho sempre detto, è simile, perché il mister vuole che ti muovi sempre, palla a terra, quindi per me è uguale, davvero. Sta dimostrando che ha grandi qualità da allenatore, quindi c'è conoscenza, c'è tantissima voglia, ci trasmette serenità e tranquillità e ci fa giocare un grande calcio, quindi secondo me bisogna continuare tutti insieme così.